Buono il terzo segnale, lottano per il comando, Odeon degli Dei con più all'interno Max Rod, poi Omardete in cerca di una posizione, riesce a scendere la corda dietro a Sannis ma deve adeguarsi all'esterno per l'inserimento di principe mani e quindi retrocede in quarta posizione lungo la corda, Max Rod si oppone a Odeon degli Dei, a questo punto Gianni Palladino avrebbe lo spazio per sistemarsi secondo in corda, vediamo se gli riesce la manovra, no, e quindi deve farsela di fuori, 400 in 31 e 9 con partenza da fermo, adesso viene via più cattivo Gianni Paladino e passa di prepotenza su Max Rod però ha speso per essere dove Odeon degli Dei, 600 che se ne vanno in 47, 1, 15 l'ultima frazione, ricordo sempre che si è partita fermo, si mette in moto da fondo gruppo Rania Mac mentre c'è l'errore di number one Italia, mezzo miglio in 1, 4 e 2, si va sul piede dell'1 e 20, andatura che è riuscita a moderare il leader, c'è stato l'errore anche di teoria di Gauche, insieme a number one Italia sono virtualmente fuori corsa, Rania Mac avanza all'esterno alla chiusura del chilometro in 1, 19 e 9, la schiena di Rania Mac è stata presa da Principe Mann, seconda posizione della corda sempre per Max Rod, terza per Sannis, chiude il gruppo Omar Dete, chiusura di un'alta frazione tranquilla in 16 e mezzo per Odeon degli Dei che controlla, adesso allunga decisamente e vistosamente Gianni Paladino lancia la volata lunga, Rania Mac, la compagna di training è lì ai suoi fianchi, accusa invece Max Rod, si migliora Principe Mann, non sembra un fattore per il momento Sannis, prova a migliorarsi Omar Dete, testa a testa tra i due allievi di Lucio Becchetti ai 400 conclusivi, il miglio in 2, 4 e 7, c'è un 14 e 1 di ultima frazione con sempre a condurre Odeon degli Dei, ma Rania Mac è cattiva all'esterno, si prepara anche Principe Mann, si è ripreso, anche Max Rod sta passando all'appoggio, Rania Mac già ai 200 finali, Rania Mac se ne va su Odeon degli Dei, finisce forte Omar Dete nel finale, passerella assoluta per Rania Mac che vince come vuole, il secondo posto Odeon degli Dei precede probabilmente Max Rod, ma l'andremo a rivedere, 2.33.8 la distanza con 29 a chiudere, c'è un 43 appena abbondante per i 600 conclusivi, una misura ufficiosa intorno all'1.17 per chi vince, Rania Mac, Andrea Sallustio, Lucio Becchetti al treni, i colori della scuderia di casa di Andrea Sallustio, la New Deal, il secondo posto è per il numero 4 di Odeon degli Dei, al terzo il 2, Max Rod, al quarto posto probabilmente Omar Dete su Principe Mann. Grazie a tutti.